Operazione della Polizia affoggia contro il lavoro nero in controlli effettuati insieme a personale del Servizio Centrale Operativo in un'area privata tra i comuni di Cerignola e di San Ferdinando di Puglia. All'interno di un capannone faticente sono stati trovati 54 cittadini bulgari e romeni intenti alla lavorazione di carciofi destinati alla successiva trasformazione. Alcuni di questi operai avevano tra le braccia dei bambini e le attività lavorative si svolgevano in un ambiente malsano e in condizioni igieniche pessime. Nessuno dei lavoratori era in regola con le disposizioni in materia. Al termine degli accertamenti cinque persone responsabili del lavoro sono state arrestate per associazione per delinquere finalizzata all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro. Altri due soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per gli stessi reati mentre un'altra persona è stata denunciata per favoreggiamento. La ricostruzione dei fatti ha consentito di accertare che gli operai che si recavano al lavoro in quel capannone da oltre cinque giorni venivano caricati a bordo di quattro veicoli e trasportati sul luogo di lavoro dove prestavano attività lavorativa per oltre 12 ore al giorno con un compenso massimo giornaliero di circa 15 euro pari a un centesimo e mezzo per ogni carciofo defoliato. L'area e i veicoli sono stati sequestrati.